Musica Non mi è mai capitato di vedere un lupo Signori un lupo Che bello ragazzi Buongiorno Oggi faremo un gran bel trekking Faremo il monte Bolza E questo qua davanti Ma guardate che spettacolo Guardate Siamo a Campo Imperatore Lì davanti a noi Nascosto dietro le nuvole C'è il corno grande Nuovamente con l'amico Alex Buongiorno È tanto tempo che voglio fare questa escursione E finalmente Ci sto per riuscire Questa è la fonderia Sergi E' il punto di partenza Per questa escursione Vi faccio rivedere un po' Tutte le montagne che abbiamo qui intorno Il monte Bolza Non è molto preso in considerazione Da queste parti perché È una montagna che non raggiunge I 2000 metri Però ne ho sentito parlare molto bene Perché Ha una vista incredibile Sul Campo Imperatore E tutte le cime circostanti Questa mattina Per la prima volta in vita mia Sono riuscito a vedere un lupo Allo stato brado Ed è stato qualcosa di fantastico Incredibile Se tutto andrà bene Dopo aver raggiunto la cima del monte Bolza Scenderemo nel canyon dello Scoppaturo Altro luogo Incredibile Di questi posti meravigliosi Ecco qui le tracce inconfutabili Del passaggio dei lupi Le nuvole stanno avvolgendo la cima Vediamo una volta su come siamo messi Tratto breve ma abbastanza impegnativo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sembrava fatta ma in realtà la cima è quella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti ci siamo quasi ultimo sforzo siamo a quota 1858 quindi altri centinaio 70 metri a a a a a a cima raggiunta stupendo guardate che panorama guardate grazie anche questa volta che ha frenato a vuoto la situazione si sta mettendo un po' male tra virgolette nel senso che stanno arrivando un po' di nuvole che ci impediscono di vedere più che altro il panorama si riparte dobbiamo fare questa bella cresta destinazione canyon dello scopaturo andiamo ci sono un po' di nuvolette ho perso Alex in mezzo a quelle nuvole comunque fa molto freddo siamo a circa 2 gradi ho i guanti nella borsa ma non ho voglia di prenderli un ambiente incredibile il canyon dello scopaturo è praticamente questo qui sotto un paesaggio incredibile proseguiamo lungo queste creste un paesaggio incredibile volendo continuare in avanti ma abbiamo deciso di riscendere perché il meteo non ci convince adesso aggiriamo la travetta del Bolza e riprendiamo dal Senchiero Italia il canyon così ce lo possiamo vedere diciamo per la sua interezza evitiamo di salire di quota in modo che se piove possiamo comunque tagliare i dritti e tornare la macchina in maniera veloce in ogni caso non abbiamo perso quasi nulla è una navetta più bassa anche perché poi oggi comunque è scoperto quindi c'era poco da vedere a livello di panoramiche siamo dritti verso quella macchia di neve penso che riprendiamo il sentiero giusto Alex? sì, riprendiamo il sentiero che sale sul Bolza ma dal canyon dello scopaturo guardate il tempo inclemente che stiamo trovando per essere sicuri al 100% stiamo guardando un attimo la traccia con tutte queste nuvole non si vede più nulla siamo zuppi ok ragazzi davanti a noi il canyon dello scopaturo adesso dobbiamo vedere soltanto come poter scendere eccolo qui guardate dobbiamo scendere qui e sta praticamente nevicando non si vede più nulla praticamente siamo scesi da là abbiamo fatto questo questo è il canyon immenso noi siamo scesi giù dritti per dritti ma non imitateci perché è molto pericoloso siamo scesi di lì solo perché abbiamo perso il sentiero stiamo prendendo una bella pioggia ma tanto ormai è importante essere arrivati qui l'auto non è molto vicina ma piano piano si arriva non mi aspettavo che pioveva comunque alla grande è uguale wow fantastico bellissimo da queste parti sono stati girati parecchi spaghetti western uno in particolare continuavano a chiamarlo Trinità grande cult favoloso c'è una targa all'inizio sì all'inizio c'è una targa la location che però in realtà è più a nord di qua ma comunque rientra sempre in questo canyon ci stiamo lasciando il canyon alle spalle davanti c'è la strada andate sul Bolsa perché se non ci siete non stati perché merita c'è dei panorami veramente belli percato vabbè non siamo riusciti a fare la seconda vetta per la pioggia però già così va benissimo ecco la targhetta di cui di cui stavamo parlando la nostra intenzione iniziale era andare proprio a vedere il punto dove sono state effettuate le riprese che sono più avanti ma con questo tempo dobbiamo rinunciare sarà per la prossima comunque bellissima escursione cosa ne pensi Alex bellissimo il Gran Sasso poi il Campo Imperatore offre sì sì ma questo giro in particolare è stato stupendo bellissimo bellissimi il Bolsa sicuramente non è la montagna da 2000 però non manca nulla cioè c'è dei panorami che probabilmente nemmeno un 2000 consigliatissimo una cima molto sottovalutata sì sì abbiamo qui qualche informazione che sembra molto interessante questi sono i vari punti dove sono state girate le scene di alcuni film che sono questi continuavano a chiamarlo Trinità Carambola Cheoma Autostop Rosso Sangue Krull il generale dell'armata morta King David Yado The Barbarians Camping del Terrore il sole anche di notte Liberi l'orizzonte degli eventi quindi vedete quanti film sono stati girati in questa zona ma infatti l'ambiente merita bene allora noi ci risentiamo alla prossima escursione a presto alla prossima a presto